Vai te! Ho preso la mia novità! Vanno così dritta! Vai te! Ho preso di te! Hai te! Ho preso di te! A seconda! A seconda! Stira fuori il braccio! No tutte e due! Una mano sola si sta fuori il altro braccio! Stira fuori il dritto il braccio! Stira fuori il dritto il braccio! Equilibria! Bravo! 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 A seconda! Bravo! A seconda! Bravo! A seconda! A seconda! Senti l'occhia! Sicurassalo! Fagli capire di comanda! Chi che mi vengono a capire? Eh? Pa! Mi sono a poter rifare! A parte! A parte di... C'è il tuo! Fisica di Camera! Giù siamo! Ehhhh! Ciao!